Oggi faremo la discesa nella spiaggia rosa, la famosa Pink Beach, e andremo a trovare il guardiano, ovvero Mauro Morandi, una persona speciale ed eccezionale. Poi, lasciato a casa di Mauro, faremo il giro di Cudelli, entreremo dalla parte di Razzoli, in Cala Lunga, e correremo vicino all'isolotto principale del Banto della Madonna. Lì faremo ancoraggio, bagni, relax, aperitivo e pranzo. Una giornata c'è! A bordo di Sardinia Charter, direzione Budelli, a trovare Mauro, portargli gli accendini, fare due chiacchiere, salutarlo, e poi continuare il giro nell'arcipelago, con l'autista, Lorenzo, Veronica, e poi dopo tutto il resto è là, con la ostessina, e Francesca che sta preparando il caffè, non si vede, eccola là. Delfini! Delfini? Siamo visti? Sì, eh, sono là. Vabbè, lui li vede spesso. Mi sa, guarda, mi conosce, mi conosce. Delfini! E lì vicino non c'è, 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 non c'è. Non c'è, 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 non c'è. Lo spondo spiaggia rosa, questo è l'isola di Budelli e il e stiamo arrivando da Mauro Morandi, l'abitante dell'isola, l'amico Mauro. Qua ci sono un po' di barca ormeggiata, la giornata è splendida, la barca pure, la compagnia idem, una vitaccia. Quella la è la casetta di Mauro, c'è l'acqua torbida ma per il resto va tutto bene. Grazie a tutti. Tearing me apart from the inside out so I can see myself from the inside. Oh love, tearing you apart from the inside out so you can see yourself from the inside. Oh love, tearing us apart from the inside out so we can see ourselves from the inside. and might be causing pain and might be coming my home home. Grazie. Ciao Mauro. Arrivederci. Buona giornata Mauro. Arrivederci. my friends. I can't be saved. This is all he acts for. la panca 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie caro, volevo far venire i fish sotto la barba, con fare il carazzo. Ma sei un sommelier. Hai capito? Grazie. 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 L'unico che lavora è sempre Luca, povero Trissas. No, non so io Luca. Sorride ancora. Buongiorno Buongiorno